Nella sala degli stemmi del Palazzo Ducale di Camerino si è svolto il focus sulle condizioni di vita e di studio degli studenti universitari negli Atenei delle regioni Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Lazio. A Camerino oggi ci sono le regioni del centro Italia, auspichiamo e speriamo che nelle prossime settimane si possa attivare un analogo percorso tra le regioni del sud e del nord perché chi conosce il sistema universitario nazionale sa che sud, centro e nord sono aree territoriali del nostro paese piuttosto coerenti dove affrontare le stesse problematiche con però diversità. Presente anche il presidente della conferenza dei rettori delle università italiane Gaetano Manfredi che ci fa una fotografia della situazione attuale. C'è una situazione di sofferenza perché il tema del welfare studentesco è un tema estremamente importante e non c'è un sostegno sufficiente ai nostri giovani e questo spesso fa sì che ci sia una parte importante della nostra popolazione studentesca che non ha possibilità di accedere all'università e ha grandi difficoltà. Io credo che questa sia un'emergenza a cui il governo e le regioni debbano dare una risposta. Data voce anche ai diretti interessati con il presidente del Consiglio nazionale degli studenti universitari Andrea Fiorini. Noi in particolare chiediamo che ci sia una maggiore sensibilità non solo da parte del ministero e delle istituzioni nazionali ma anche soprattutto di chi è più vicino alle realtà universitarie e studentesche ovvero le regioni, gli atenei. Una sensibilità che voglia dire anche cercare di andare incontro in tutti i modi possibili anche un semplice annalzamento delle soglie per il diritto allo studio o anche una maggiore diciamo coerenza e semplicità dell'offerta formativa. Insomma tutto quello che può veramente significare un alleggerimento nel peso del percorso dello studente universitario perché questo è un momento in cui abbiamo bisogno di più studenti universitari e invece ne perdiamo. Perché ne perdiamo tanti proprio perché si è scelto in questi anni di non essere particolarmente attenti e sensibili a queste tematiche.